a me non puoi anche dire un consiglio dovresti venire a piovere per il teatro che ti dici? che ti resti? porta male parla a Gespi sembra cucciolo sembra cucciolo sembra cucciolo? ma è un che cosa? un cucciolo di orsacchionzo? un cucciolo di sette nani ah cucciolo di sette nani ecco è un po' un urlato ma no vi farà anche il gioco guarda il gioco è il castello di urlì è il castello di urlì ah l'uomo o l'uomo? ah un po' un urlato se stai scivolando allora scivola per bene con impegno tra di giù e non ti aggrappare a niente non ti aggrappare a niente non ti aggrappare a niente se qualcuno ti ha ferito ti parla con lui spatti il cuore e non ti aggrappare a niente non ti aggrappare a niente non ti aggrappare a niente se ami una donna cerca di un'altra non amare ti sentirai meno fragile e più capace di amarle allo stesso identico modo se ti sfugge il motivo e la ragione delle cose molto probabilmente c'è un motivo e c'è una ragione ma non fanno ma soprattutto se piove non aprire il urlato non spetta il tuo giorno di sole non puoi fare di meglio soprattutto se piove non aprire il urlato non spetta il tuo giorno di sole non puoi fare di meglio se ascolti una canzone sai bene quando è vera e quando certe volte è solo per te sto per farvi bravo mai di sopra tutto se piove non aprire il urlato aspetta il tuo giorno di sole non puoi fare di meglio di sopra tutto se piove non aprire il urlato aspetta il tuo giorno di sole non puoi fare di meglio aspetta il tuo giorno di sole non puoi fare di meglio e il tuo giorno di sole Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.